Che cos'è la musica house? Bella domanda. Bella domanda, soprattutto è difficile la risposta. Quando la musica house è nata era abbastanza chiaro stabilirne dei confini tra quello che poteva essere disco, poteva essere hip hop e quello invece poteva essere elettronica. Addirittura la techno non esisteva, era parte della musica house. Il problema però quando si parla della musica house è fondamentalmente il fatto che sì ok Frankie Knuckles e Marshall Jefferson eccetera, sì ok Masters at work una decina di anni dopo, ma oggi che cos'è la musica house? Bisogna per forza fare riferimento a generi e stili di 20 o 30 anni fa? Assolutamente no. Però rimane il problema di dare una definizione netta e soprattutto in poche parole di quella che è la musica house e sinceramente questa definizione ancora non saprei da che parte trovarla. Credo sia un percorso quello che andiamo a cominciare adesso nel cercare di definire che cos'è la musica house oggi, se esiste, se ritornerà di moda, molto probabilmente no, quale è il suo spazio sia nelle serate sia negli ascolti. Vorrei evitare sia una definizione troppo tecnica, che magari ha a che fare con il tipo di cassa, rullante o arrangiamento, e sia una definizione troppo generica. E penso che il termine di musica house sia tra i più confusi, sia tra le persone normali non addette ai lavori, ma anche tra i DJ al di là di chi si occupa di queste cose in maniera più specifica. Soprattutto anche tra i locali che ti chiedono di fare una selezione house e dopo dicono di mettere pezzi che non hanno niente a che vedere con queste cose. Mi piacerebbe riuscire insieme a voi a tirar fuori dei termini abbastanza netti, precisi, per definire la musica house di oggi e cercare di orientarsi in questo mare di musica per stabilire cosa è house e cosa non lo è. Se magari si può definire bene che cosa è dance e che cosa è techno, tutto quello che è lì nel mezzo può risultare un po' difficile da collocare. Cerchiamo insieme di venirne a capo, di trovare una soluzione e quindi chiedo di partecipare attraverso i commenti, con idee, con proposte, soluzioni, dibattiti, articoli interessanti, per trovare il modo di riuscire a definire chiaramente che cos'è la musica house, per poi parlarne insieme e anche per diffondere la cosa. Quindi continuo a seguire i video di S3 DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e a presto!